Allora, oggi una grande giornata di vento a Como e che cosa ci riserva nei prossimi giorni il meteo in questo inizio di novembre? Ce lo dice la nostra meteorina Claudia Fasora. Claudia, allora oggi sei venuta a trovarci anche in redazione. Sì, ciao Marco e naturalmente un buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Ci sono buone notizie in arrivo perché continueranno i cieli sereni di questa giornata. Sarà decisamente un martedì meno ventoso perché i venti si indeboliranno sin dal mattino. Però oggi per tutta la giornata ci sarà vento, fino a stasera. Continuerà il vento, la tempesta di San Martino come l'hanno ridenominata gli esperti. Continuerà ad agire sulla nostra penisola attraversandola tra nord e sud portando maggiori disagi di piogge temporali al centro e al sud. Il vento continuerà ancora per oggi molto intenso e raggiungerà anche le raffiche di 100 km orari di Bora e di Maestrale. Ma poi da domani tornerà a una situazione decisamente più normale e più calma. E un'ultima cosa, Claudia possiamo dire che dopo questi giorni un po' particolari ci sarà l'inverno? O è presto? No, no, non è affatto presto. Già una prima ondata di correnti di aria fredda artica è arrivata ieri in giornata, domenica, dopo le temperature anomale per il periodo della settimana scorsa e poi da giovedì nuova ondata di freddo.